e ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video di minecraft in questo episodio scusate c'è un ape vada via signor ape si è andata nella tenda e oggi noi io ho trovato oggi non è un giorno molto felice perché ho trovato davanti a me questo questo ragazzi è una ho fatto il mondo di siren head si ed è abbastanza normale che trovo queste cose metto nella tomba a muoio e guardate questa qui è una croce chissà di chi chissà chi l'ha fatta ho messo il mondo di siren head e dobbiamo seguire questa scia vediamo non devoACTare basta abbe non no no non non nonاد mangiana mangiana dai 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 calma calma ma anja non puoi muoite ok devo riandarci creativi assolutamente assolutamente voglio scoprire cos'era quella cosa e dove ero andato? basta fare così ecco la ero la ero la ero andato la ero andato la ecco qua ero andato qui scusate se c'è sta un attimo la devo acchiappare con un cuscino non ce l'ho fatta vabbè lo raccolgo dopo eccoci qua guardate qui io sono morto qua giù volevo dire ecco qui tutte le mie cose ma cosa succede se seguiamo aspettate un attimo mi rimetto in sopravvivenza ora che ho superato sta cosa stavo per riproduciare no 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 cosa mi interessa qua lascio un suggerimento non voglio lasciare un suggerimento lo lascerò un'altra volta ecco qua guardate cosa c'è qua che cosa è che cosa è io guardate che io ho la spada in mano eh ho la spada in mano chi c'è no 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 morto per la seconda volta ma che è stato non si è sentito il rumore però sono caduto c'è mi hanno spinto giù ma chi è stato ho paura ho la paranoia addio 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 e ma ragazzi ci vediamo subito in un prossimo video ho paura ahhh basta chiudo gioco chiudo gioco ora gioco a gta se no mi spavento troppo e doy stanotte non torno ciao ragazzi ciao